Salve, sono Geremia, sono uno studente della quarta automazione della scuola Fermocorni di Modena. Sono la professoressa Grani dell'Istituto Tecnico Corni di Modena, insegno sistemi elettrici automatici e tecnologia disegno e progettazione elettrica. Complessivamente, come consideri il tema della gestione energetica degli edifici? Per me è una necessità, bisogna risparmiare il più possibile all'interno degli edifici. Un'opportunità. Quali sono i principali ostacoli per l'attuazione di misure di efficienza energetica negli edifici? Forse anche la mancanza di risorse finanziarie. La mancanza di risorse finanziarie, la carenza di competenze tecniche. Come considera il ruolo della tecnologia e dell'informazione e della comunicazione per la gestione dell'efficienza energetica? Soprattutto l'informazione è molto importante perché bisogna comunque far sapere alle persone di questo progetto e di quanto sia importante. Marginale. In base alla sua conoscenza, un efficace programma di energy management dovrebbe generare un potenziale di risparmio energetico pari a? Dal 20 al 30 per cento, più o meno. Tra il 20 e il 30 per cento. La situazione è nella sua scuola. Nella sua scuola esiste un responsabile della gestione energetica? No. Non ne sono a conoscenza se c'è o meno. La sua scuola è dotata di un sistema di monitoraggio e analisi dei consumi energetici? Sì. No, non lo so. A questo punto le chiedo di specificare la frequenza del monitoraggio e dell'analisi. La frequenza di monitoraggio è giornaliera e viene comparata con dati storici, non abbiamo dati di riferimento particolari. Per quanto riguarda invece le informazioni che noi abbiamo sul consumo, ecco questi sono dati che abbiamo a disposizione solo a livello aggregato. La sua scuola è dotata di un building energy management system? Penso di no. No. La sua scuola è dotata di un sistema di monitoraggio dell'illuminazione delle aule e dei luoghi di lavoro, anche con riferimento alle stanze comuni e alle stanze dello staff? No. Purtroppo no. La sua scuola ricorre a fonti di energia rinnovabile? No, non credo. Sì, abbiamo un fotovoltaico. Negli ultimi tre anni nella sua scuola sono stati condotti audit energetici? No. Direi di no, almeno non ne sono a conoscenza. La sua scuola ha implementato misure di efficienza energetica negli ultimi tre anni? Non ne sono a conoscenza. No. La sua scuola intende implementare nei prossimi tre anni misure di efficienza energetica? Non lo so, ma speriamo. Beh, questo dipende dalla dirigenza, ma direi di sì. La sua scuola ha già beneficiato di fondi pubblici per l'efficienza energetica? Non credo, non lo so. Direi di no. Il suo impegno nella gestione dell'energia nei prossimi tre anni? Aumenterà. Per me aumenterà. Personalmente credo che mi darò da fare per mettere in atto più cose possibili riguardo al risparmio energetico, soprattutto in casa mia.